Ivo Moras, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia. Lo sport, la regione che crede sempre nello sport in questi grandi eventi? La regione crede che lo sport non sia una spesa ma bensì sia un investimento. Investire nello sport significa creare opportunità per i nostri giovani, per il nostro territorio, per il nostro turismo e fare in modo che la visibilità che può avere questa manifestazione sia tale rispetto anche ai campioni internazionali che ospita. Noi continueremo questo percorso perché crediamo nello sport, crediamo nel ciclismo e soprattutto crediamo nel nostro Friuli. Sei giorni internazionali di ciclismo, tutti da godere? Tutti da godere, dal lunedì al sabato, una cosa eccezionale, merito di una squadra veramente capace, eccezionale con delle persone che sanno impegnarsi per raggiungere obiettivi che a un tempo potevano essere solamente pensabili e oggi sono realizzabili. Grazie Ivo Moras, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi e buona pista.